presentato a lumezzane all'auditorium della fondazione le rondini il libro del senatore mario mantovani vent'anni di civiltà riflessioni sull'amministratore di sostegno con la legge numero 6 del 9 gennaio 2004 approvata dal parlamento italiano con la proposta decisiva del senatore di fratelli d'italia mario mantovani è stata infatti introdotta la figura dell'amministratore di sostegno per la tutela legale e la protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'esplettamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente i temi emersi nel corso della serata sono stati quelli della disabilità delle difficoltà e dei diritti delle persone disabili temi più che sentiti dal senatore mantovani tanto da portarlo come ricordato ad essere l'assoluto precursore della tematica anticipando persino l'organizzazione delle nazioni unite che si è allineato solo successivamente 20 anni fa da parlamentare europeo infatti mario mantovani fu il primo ad attivarsi concretamente per far approvare la legge che istituì la figura dell'amministratore di sostegno per le persone con disabilità dimostrando una sensibilità tipicamente italiana che non può non riempirci d'orgoglio 20 anni di civiltà che vanta la prefazione dell'ex presidente del senato marcello pera propone un'analisi attenta della legge numero 6 del 2004 della sua emanazione alla sua applicazione durante questi 20 anni affinché attraverso il dibattito possa essere migliorata e adeguata le nuove esigenze dell'assetto sociale italiano lo stesso mantovani ha sottolineato fra l'altro l'esigenza di una riforma più attuale della norma un centinaio di persone hanno fatto da cornice alla serata con la gradita presenza fra gli altri del consigliere regionale giorgio bontempi del sindaco di marchieno diego bertussi e della sindaca di collio mirella zanini hanno portato i saluti istituzionali del comune di lumezzane claudio ogniutti assessore ai lavori pubblici alla manutenzione e alle attività produttive e carlo bravo consigliere regione lombardia vicepresidente della commissione agricoltura e foreste sono intervenuti lucio facchinetti avvocato del foro di brescia assessore alla pubblica istituzione e cultura del comune di lumezzane simona torri avvocato del foro di bergamo consigliere comunale di sarezzo margherita ceresoli fondazione le rondini della città lumezzane fausto gamba presidente della fondazione di cura rsa pietro beretta della città di gardone valtrompia ha moderato giuseppe spatola vicepresidente gruppo cronisti lombardi